Finito X Factor, che è stata la colonna portante, diciamo, di questi ultimi mesi del monologato podcast, un appuntamento fisso e che ha richiamato un sacco di persone attorno a questa realtà, ho deciso di riorganizzare il tutto. Ecco, adesso lunedì si farà il resoconto del weekend, tutte le uscite che non ho commentato nel weekend, più nuovi contenuti di musica italiana, quindi si andranno ad analizzare musica italiana, si andrà ad analizzare. Ecco, mercoledì, come oggi, ci sarà le unreleased session, che possiamo ribattezzarlo il mercoledì della morte, in quanto si andrà soprattutto a prendere testi, a rianalizzare canzoni unreleased di artisti come XX Tentacion, Lil Peep, Juice WORD e via dicendo. Quindi, mercoledì della morte, si va nei bassi fondi dell'animo umano, tutti i testi dei SoundCloud Rapper che non possiamo trovare, diciamo, su Spotify, verranno analizzati qui con me. Poi ci sono il venerdì che facciamo le uscite, quindi le pubblicazioni dei brani in Italia, il sabato facciamo le tendenze USA, sempre a blocchi di tre. Quindi selezionerò tre tendenze italiane, tre tendenze USA, tre unreleased in session e tre lunedì di lunedì pop italiano. Bene, ora, fatto suo discorso, andiamo a vedere questo brano Juice WORD, Girlfriend. Il mood è il classico di Juice WORD e voi sapete che io sono un gran fan dei suoi testi. Ed ero curioso, visto che ho appena fatto Teen Romance di Lil Peep, sono curioso di vedere invece questa tipologia di emozioni dettate da lui. E dice, eri tu, c'ero io, eravamo io e te. Andiamo a unire quindi, si arriva al noi. Vivi una bugia, vivi una bugia, lo ripete una seconda volta. Vivi una, vivi una vita. La vita vissuta attraverso bugie. Non mi ami, potresti farmi crocifiggere il rifiuto. Anche lui, come Lil Peep, attratto da donne che non lo amano, che lo rifiutano. Ma poi un negro, su se stesso, è diventato ricco e ora vuoi provare, riprova. Quindi ecco, il concept di questo brano, che credevo fosse un pezzo d'amore, è semplicemente Adesso torni, adesso che ho successo. Ma prima mi hai rifiutato, mi hai spezzato il cuore, mi hai crocifisso. E quindi questa è una canzone dove proprio c'è una rivalza che non è una rivalza. E infatti il ritornello dice, so che hai avuto un altro uomo. Non ho tempo, perché ho una ragazza. Sembri messa piuttosto male per una troia. Sono così felice. La prospettiva di questi rapper defunti è veramente raccapricciante. E ci racconta di più. Cioè io attraverso la morte di queste persone sto andando a cercare la vita. Quindi, perché non hai un uomo? Sì, sì. Continua a correre su queste bande. Ho un 40 in pantaloni. Non so cosa voglia dire. Forse ho un quarantino. Ho 40k. Quante altre zappe vogliono clonare? Ecco perché non vado a scopare con un cazzo. Purtroppo, ragazzi, le traduzioni sono veramente ridicole. Immagino che sia un'ostentazione di abbigliamento. Infatti al verso 3 dice, ho una Gucci nella mia corsia. Ho voglia di farlo per il peso. Ma la tiro su con forza. È veramente difficile tradurre questa roba. Comunque la canzone ha il suo gran perché. Però è un po' un classico di G's World. Questo stile, questa roba un po' così. E devo dire che è raccapricciante. No, è veramente raccapricciante questo testo. Al di là del fatto che non fosse chiaro, non si capisce, non si riesce a tradurre. Ed è una rivalza che non è rivalza. Meditiamo, punto. Non c'è da fare una morale, c'è da meditare. Chissà. This is G's World. Chiudiamo questo mercoledì della morte. E torniamo alla vita. Domani, ultima puntata di X Factor. E poi inizia una sorta di nuova stagione per il monologato pod.